A presto. Sta tranquillo Jeremy, faremo una presentazione impeccabile. Sarà il caso, ci giochiamo tutto il semestre. Allora, che novità ci sono dal nostro meraviglioso liceo? Judith Nevers esce con Ronald Limousin. Ma chi sono Judith Nevers e Ronald Limousin? Non ho idea, ma sembra proprio che escano i... State andando molto bene. Nella prossima stanza di balto vi aspettano nuove sfide. Fate vedere che siete all'altezza dei vostri avversari battendo gli orsi meccanici. 3, 2, 1, 4! Halo. Uhhh, 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 uhhh..... Oh no! No, no, no. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Hai vinto! Ha 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 ha!